Care concittadine, cari concittadini, il 23 settembre 2018 voteremo sul decreto federale concernente le vie ciclabili. In futuro le vie ciclabili saranno integrate nella Costituzione federale come i sentieri e i percorsi pedonali. La Confederazione potrà così promuoverle al pari dei sentieri e dei percorsi pedonali che vengono già sostenuti da circa 40 anni. Concretamente il decreto federale dà alla Confederazione la possibilità di fissare dei principi per le vie ciclabili e di sostenere e coordinare i provvedimenti adottati dai cantoni, dai comuni e da terzi. Si tratterà per esempio di raccogliere dati ed elaborare statistiche nazionali per le vie ciclabili, definire standard in materia di qualità e sicurezza e mettere a punto geodati per cartine e applicazioni. Il decreto federale rappresenta posizioni meno estreme rispetto all'iniziativa per la bici che nel frattempo è stata ritirata. L'iniziativa voleva infatti fissare l'obbligo per la Confederazione di promuovere le vie ciclabili. In tal modo sarebbe stata compromessa la sovranità dei cantoni e dei comuni. Con il decreto federale la pianificazione, la costruzione e la manutenzione delle vie ciclabili rimarranno compito dei cantoni, delle città e dei comuni. La Confederazione sarà attiva soltanto a titolo sussidiario e la competenza di cantoni e comuni verrà mantenuta. Il Consiglio federale e il Parlamento sono favorevoli al decreto federale in quanto una buona rete di vie ciclabili aumenta la sicurezza stradale. Separando il flusso di traffico si riduce il rischio che automobili, biciclette e pedoni si intralcino a vicenda. Ciò comporta vantaggi per tutti. Le vie ciclabili permettono inoltre di far fronte alla crescente mobilità e di sgravare gli altri mezzi di trasporto. Quattro corse su cinque in bus o in tram sono inferiori a 5 chilometri. Nel caso dell'automobile addirittura una corsa su due è inferiore a 5 chilometri. Vale quindi la pena sfruttare meglio il potenziale offerto dalla mobilità ciclistica. Chi circola in bicicletta tutela l'ambiente e si mantiene in movimento. Andare in bicicletta fa bene alla salute. La bicicletta diventa sempre più importante anche per il settore turistico. L'integrazione delle vie ciclabili nella Costituzione tiene conto dell'importanza crescente di questo mezzo di trasporto. Il Consiglio federale e il Parlamento, i cantoni e le città raccomandano di votare sì al decreto federale sulle vie ciclabili. In futuro la Confederazione potrà così sostenere i cantoni e i comuni nella realizzazione di vie ciclabili sicure e attrattive.